E' l'appuntamento più importante fra quelli che l'AIS, vale a dire l'Associazione Italiana Sommeie, organizza ogni anno in Piemonte. Parliamo di BAEBA. Quest'anno siamo Barole Barbaresco 2019, una rassegna enologica prestigiosa che propone in anteprima il Barolo 2015 e il Barbaresco 2016, presentati da quasi 150 produttori. Ma quali sono le caratteristiche dei vini di quest'anno? Sono circa 150 produttori, quindi una rassegna molto importante che ha già raggiunto i suoi 20 anni di vita in questa bellissima cornice di Palazzo Carignano. Le annate sono per il Barbaresco la 2016, che è una grande annata, un'annata eccezionale, ma anche per il Barolo 2015 rappresenta certamente un punto di grande qualità per il vino, certamente, ma anche per tutto quello che in questi anni è stato il mondo del nostro vino piemontese, in particolare legato al Nebbiolo, di cui il Barbaresco e il Barolo rappresentano l'eccellenza. La novità di quest'anno è Ice Professional, una manifestazione legata ai professionisti del vino? Più che una manifestazione è un percorso educativo e di formazione riservato ai professionisti. Nella tradizione dell'Ice l'obiettivo è sempre stato quello di formare professionisti. Noi abbiamo avuto e abbiamo in questi anni grandi appassionati, vorremmo dedicare a loro un momento di educazione, di condivisione, qual è il nostro stile, di essere a fianco al mondo della professione. E poi quest'anno Bah & Bah ha riproposto i due classici appuntamenti a Marcord e poi una degustazione di Baroli del 2009. Esatto, sono due momenti inseriti nella manifestazione a banco d'assaggio che è un approfondimento di grandi produttori. Abbiamo fatto una degustazione importante legata alle grandi aziende, a grandi annate, siamo andati indietro nel tempo fino al 1982 e poi faremo un focus sull'annata 2009. Grazie a tutti.